Ciao a tutti! Il prodotto preferito di Vitto è questo. Gouvi Chollinodi è una piccola emulsione ad azione tristricante che rende i capelli facilmente pettinabili ed estremamente lucidi. È costituito per il 98,8% da ingredienti di origine naturale, non contiene all'interno siliconi, ha un'ottima profumazione di karité vaniglia e all'interno ha olio di semi di lino che rende i capelli molto lucidi e ne controlla il crespo. Gouvi è un prodotto ideale sia per i capelli ricci che per i capelli lisci, si può usare sui capelli asciutti e su quelli bagnati e quindi questo prodotto si può utilizzare ovunque, a casa come in viaggio, in palestra, in piscina e al mare. Si utilizza così, si agita bene. Si spruzza, si lascia in posa per qualche minuto e poi si spazzola e la spazzola non si blocca neanche i miei capelli. E soprattutto questo prodotto è ottimo anche per i più piccoli. Finalmente con Gouvi riesco a spazzolare i capelli a mia figlia dopo la piscina.